Mi ricordo che questo incontro è il quinto webinar organizzato nell'ambito dei webinar destinati a approfondire il tema dell'accoglienza, della protezione e della tutela dei minori stranieri non accompagnati. Per riassumere quello che abbiamo fatto fino adesso, per chi non avesse avuto la possibilità di seguire le sessioni precedenti, abbiamo già sviluppato a partire dal mese di ottobre quattro incontri che hanno preso in esame diversi aspetti che fanno capo chiaramente all'accoglienza e alla tutela dei minori. Durante questi incontri webinar sono state formulate dai partecipanti una serie di quesiti che come era stato annunciato sono stati da noi raccolti ed analizzati in modo da poter dare riscontro in due sessioni dedicate, la prima delle quali è quella appunto in cui ci troviamo oggi. L'insieme dei quesiti sono stati assemblati per tema in modo da poter essere sicuri che le diverse questioni poste potessero essere chiaramente approfondite, quindi oggi ci troviamo a rispondere e quindi ad approfondire i temi legati in particolare a questioni inerenti l'identificazione e l'accertamento dell'età, i permessi di soggiorno, il tema dell'affidamento e della tutela nonché alcune questioni connesse a modalità e specifiche in relazione alle segnalazioni dei minori al Ministero del Lavoro o alla conversione dei permessi di soggiorno o ad altre specifiche prerogative in capo al Ministero del Lavoro. È per questo motivo che oltre all'Avvocato Iuzzolini che ci ha accompagnato per le quattro sessioni precedenti, abbiamo il piacere di ospitare come è stato nella terza sessione anche la dottoressa Simona Trino del Ministero del Lavoro che quindi interverrà e arricchirà del suo specifico punto di vista la sessione. Ringraziamo chiaramente anche il Ministero dell'Interno e l'autorità garante per l'infanzia perché con il Ministero del Lavoro ci hanno sostenuto e accompagnato nelle sessioni precedenti, quindi le risposte che oggi troveranno soddisfazione negli approfondimenti che andremo ad ascoltare sono chiaramente anche frutto della collaborazione e dell'approfondimento condotto insieme a loro. A questo punto lascio la parola a Lucia Iuzzolini e ci rivediamo alla fine della sessione considerato che come era stato preannunciato sarà prevista poi un sesto incontro per soddisfare i quesiti posti sugli altri temi che erano stati oggetto degli incontri. Grazie e buon lavoro a tutti. Allora, in piena continuità con quanto è stato appena presentato, introduciamo più o meno degli approfondimenti che sono nati più che altro da quei siti che ci sono stati rivolti nel corso delle precedenti trattazioni. Idealmente eseguiremo dei macroschemi che chiaramente introdurremo nelle linee generali. È utile per quello che ci riguarda in modo da sistematizzare, così come abbiamo fatto sinora, avere il riferimento del soggetto attivo di tutta la trattazione di questi sei webinar fondamentalmente, ed è il minore straniero non accompagnato. Ricordiamo che per minore straniero non accompagnato, così come previsto la legge 47 del 2017, si intende il minorenne che non ha cittadinanza italiana o dell'Unione Europea e che si trova per qualunque causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana. L'evento fondamentale è che questo sia privo di assistenza o di rappresentanza da parte dei genitori o di adulti per lui legalmente responsabili, in base alla legge vigente nell'ordinamento italiano. Tutte queste parole, queste frasi le abbiamo snocciolate nell'ambito dei precedenti incontri, ma è utile fare riferimento anche ad un ulteriore elemento che la legge 47 ci ricorda e che è un po' il nostro leitmotiv, ovvero i minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a piena parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione Europea. Quindi per quanto riguarda questi elementi ricordiamo che non esistono delle norme specifiche, ma si fa riferimento, pieno riferimento alle norme dello Stato, agli istituti noti che chiaramente vengono applicati e vengono sostanzialmente condivisi anche nella materia dei minori stranieri non accompagnati. Alcuni, in modo a buona parte di quei siti, sono stati incentrati piuttosto sulle fasi della identificazione e dell'accertamento dell'età. Abbiamo scelto da un punto di vista metodologico quello di non condividere chiaramente i quei siti, ma di fare un discorso organico al fine di chiarire quelli che erano comunque i punti che erano stati presentati nel corso dei quei siti. Il riferimento per l'identificazione dei minori stranieri non accompagnati è chiaramente la legge 47 del 2017 che modifica sostanzialmente e introduce l'articolo 19 bis del decreto legislativo 142 del 2015. L'articolo 5 della legge 47 del 2017 è un articolo che suddivide una serie di fasi al fine di procedere con l'identificazione del minore straniero non accompagnato. Elemento importantissimo l'identificazione dello stesso è dato dal fatto che l'essere accertato come minore oppure come maggiore ne chiaramente definisce una diversa tipologia di presa in carico da parte dello Stato. Ricordiamo che la legislazione interna dello Stato italiano è particolarmente attenta a quelli che sono i bisogni dei minori e quindi chiaramente anche per la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati è altamente tutelante. Quindi vengono stabilite dalla legge 47 del 2017 che le operazioni di identificazione del minore debbano essere svolte attraverso una procedura unica, che sia unica e che sia disciplinata dalle leggi per tutto il territorio dello Stato. Quindi sostanzialmente viene introdotta un'unica procedura e così come sempre sulla base dei quesiti che ci sono stati fatti è evidente ed è molto importante definire dove i minori stranieri non accompagnati in fase di identificazione o di accertamento, quindi nelle more della procedura debbano essere accolti. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 47 del 2017 dispone esattamente che nelle more dell'esito della procedura di identificazione l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge. Quindi sostanzialmente anche in questo caso interviene quello che è il favor minoris. nella fase dell'accertamento dell'età. Nel caso in cui dovessero sorgere dei dubbi circa l'età dichiarata, questo è accertato attraverso un documento anagrafico, anche avvelendosi di quello che è l'ausilio delle autorità diplomatico-consolari del paese di origine. è chiaro che, questo viene ripetuto anche poi successivamente, tale fase non è chiaramente ipotizzabile nel caso in cui il minore abbia intenzione o abbia già formalizzato istanza di protezione internazionale. L'accertamento dell'identità dello straniero è svolta dall'autorità di pubblica sicurezza, questo è ben declinato all'interno dell'articolo 19b, scomma terzo primo periodo. nel caso in cui, abbiamo già verificato, nel caso in cui invece dovessero permanere dei dubbi in merito all'età dichiarata dal minore, la Procura della Repubblica, ecco l'altro soggetto fondamentale e importante per i minorenni, può disporre accertamenti sociosanitari volti all'accertamento dello stesso. E qui interviene un elemento innovativo della legge 47 del 2017, che mette nero su bianco qualcosa che già in precedenza aveva lasciato delle tracce. Ed è sostanzialmente che l'accertamento sociosanitario deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare garantito da professionisti adeguatamente formati in presenza di un mediatore culturale utilizzando delle modalità che siano il meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Il riferimento al quale ci stiamo rivolgendo è il comma 6 dell'articolo 5 della legge 47 del 2017. Inoltre, cosa viene declinato ulteriormente? È che non devono essere eseguiti esami sociosanitari che possano compromettere lo stato psicofisico della persona. Quindi sostanzialmente quello che viene valutato è un approccio olistico alla persona intendendo con esso proprio un'estrema attenzione all'individuo e una pletora di soggetti altamente specializzati al fine di poter procedere ad un'attività tanto necessaria quanto delicata, qual è quella dell'identificazione del minore. Abbiamo detto, anche questo è stato frutto evidentemente di alcuni inquisiti, quali erano i precedenti? Ci sono dei precedenti fondamentalmente storici ed era il protocollo Ascone che risale al 2009, quindi il 25 febbraio 2009, che disciplina le modalità dell'accertamento dell'età del minore straniero non accompagnato, definisce un approccio multidimensionale nella determinazione dell'età. Il tale protocollo aveva riscontrato il parere positivo del Consiglio Superiore del Ministero della Sanità. E successivamente il protocollo per l'accertamento olistico multidisciplinare dell'età dei minori stranieri non accompagnati, approvato dalla conferenza delle regioni nel 2016, non passato in conferenza unificata, che sostanzialmente aveva definito, delineato, tratteggiato quelli che sono poi i principi riaffermati all'interno della legge 47 del 2017. Questo è per quanto attiene l'accertamento dell'età del minore e l'identificazione e l'accertamento dell'età. Ma nell'ambito della procedura della domanda di protezione internazionale, l'articolo 19 del decreto legislativo 25 del 2008 definisce un ulteriore elemento ed è nell'ambito della trattazione della domanda di protezione internazionale nel momento in cui dovessero sorgere dei dubbi in merito all'età della persona che ha in corso la procedura della domanda di protezione internazionale. Pertanto esclusivamente riguardo a questa fase, l'articolo 19 del decreto legislativo 25 del 2008 che dispone una serie di norme dedicate alla procedura della domanda di protezione internazionale, dispone che in ogni fase della procedura il minore non accompagnato può essere sottoposto previo consenso del minore stesso ad accertamenti medico-legali non invasivi al fine di accertarne l'età e se il minore deve essere sempre informato circa la possibilità che la sua età può essere determinata attraverso una visita medica ed eventualmente nell'ambito della procedura il minore può, così dispone l'articolo, può rifiutarsi di poter fare la domanda, di poter sottoporsi alle visite mediche, tale rifiuto non costituisce motivo di impedimento dell'accoglienza della domanda di protezione internazionale, né tantomeno costituisce impedimento all'adozione della decisione. Questo chiuso il discorso legato alla procedura della domanda di protezione internazionale. Per quanto riguarda, dopo l'accertamento socio-sanitario, così come lo abbiamo identificato precedentemente attraverso l'approccio listico, così come ben evidenziato all'interno della norma, nel caso in cui dovessero permanere dei dubbi circa la minorità, questa si presume ad ogni effetto di legge, così dispone l'articolo 5,8 della legge 47 del 2017. Quindi in ultima analisi, quello che sostanzialmente viene evidenziato è che anche in questo caso, nel caso di ulteriore dubbio, interviene il favor minoris. Altro elemento fondamentale è che il risultato deve essere comunicato allo straniero, all'esercente, la responsabilità genitoriale, all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento. Altro elemento fondamentale che la norma dispone è che all'interno del provvedimento debba essere sempre indicato il margine di errore, proprio per definire che sostanzialmente vi è sempre un range, vi è un range costantemente tra, non è possibile accertare l'età in maniera definita e certa, quindi c'è sempre una variabile. sostanzialmente la prima tranche di quei siti legati all'accertamento dell'età si esaurisce, ricordiamo che è strutturato questa nostra sessione formativa come se fossero dei macroschemi che in realtà ci riportano le formazioni già effettuate e vanno ad approfondire una serie di quei siti che sono stati presentati a margine della formazione e che noi abbiamo rimaneggiato in un discorso unitario allo scopo di creare un approfondimento. La seconda macroarea è dedicata ai permessi di soggiorno, anche qui è necessario introdurre il discorso generale, ovvero che tutti i minori stranieri non accompagnati hanno diritto a rimanere in Italia. Abbiamo già definito per quale motivo, ma lo ricordiamo, infatti i minori non possono essere espulsi ad eccezione, adesso vediamo di quando, e non possono essere respinti, norma che viene introdotta dall'articolo 10 della legge 47 del 2017. L'unica ipotesi nella quale i minori stranieri possono essere espulsi è soltanto per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato ed in questi casi comunque il provvedimento di espulsione è disposto dall'autorità giudiziaria minorile e dal Tribunale per i minori, salvo il diritto di seguire il genitore o l'affidatario espulso, questo quanto dispone l'articolo 19 del testo unico sull'immigrazione. Pertanto, così come abbiamo già declinato precedentemente, ove la persona rimane nel territorio dello Stato a pieno diritto, ha evidentemente il diritto ad avere un permesso di soggiorno. In questo caso, i permessi di soggiorno che sono stati introdotti dalla legge 47, in realtà non sono stati introdotti, non sono stati razionalizzati, sono fondamentalmente due macro aree anche qua. Il permesso di soggiorno per minorità, il permesso di soggiorno per motivi familiari e la terza fase, ma abbiamo detto che è eventuale, delegata alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale, ovvero il permesso di soggiorno per richiesta asilo. Quindi è evidente che quanto abbiamo declinato prima, viene disposto dal DPR 394 del 99 e all'articolo 28, che dispone che tutti i minori strani erano accompagnati, solo per il fatto di essere minorenni, solo per il fatto di essere inespellibili e non respingibili, hanno diritto ad avere un permesso di soggiorno per minore età. Alcuni quesiti ci hanno portato, quindi sostanzialmente a tradurre che cosa? Quanto già dichiarato all'interno della circolare della Direzione Centrale dell'Immigrazione e delle Polizie delle Frontiere del 24 marzo 2017, che dispone che il coesore rilascia un permesso di soggiorno per minorità su richiesta dello stesso minore direttamente oppure attraverso l'esercente e la responsabilità genitoriale. La mancata esibizione del passaporto o altro documento equivalente non può costituire motivo di rigetto o del titolo di soggiorno. Il permesso di soggiorno per minorità è rilasciato su richiesta dello stesso minore o attraverso la richiesta del responsabile genitoriale anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del Codice Civile. Tale permesso di soggiorno è valido sino alla maggiorità evidentemente. È cartaceo ed è rilasciato con validità nazionale con una durata di un anno che viene rinnovato evidentemente di anno in anno. L'altra tipologia di permessi di soggiorno è il permesso di soggiorno rilasciato dal questore per motivi familiari, quindi sostanzialmente così come introdotto dalla legge, per il minore di 14 anni affidato o sottoposto alla tutela di cittadino italiano con lo stesso convivente oppure di un minore ultra 14enne affidato o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente. In questo caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rinnovato fino al raggiungimento della maggiore età, è un permesso di soggiorno che dà la possibilità dello svolgimento delle attività di studio ed è un permesso di soggiorno che dà la possibilità dello svolgimento, secondo quanto dispone delle regole comunque dello Stato, alle attività lavorative. Per quanto riguarda una volta arrivati al compimento del diciottesimo anno di età, ai minori stranieri non accompagnati può essere concesso un permesso di soggiorno dopo aver ottenuto il parere positivo da parte della Direzione Generale del Lavoro, di questo verrà ampiamente approfondito da qui a brevissimo. La cosa sulla quale volevo portare l'attenzione che poi è stato oggetto anche di quei siti è che comunque il permesso di soggiorno per minorità è convertibile nelle tipologie previste dalla legge, ovvero per lo studio, l'accesso al lavoro, il lavoro subordinato, il lavoro autonomo o le cure mediche. Quindi sostanzialmente è un permesso di soggiorno che dà una continuità, anche una volta raggiunto il compimento del diciottesimo anno di età. Altro quesito che ci è giunto, che quindi chiaramente è bene, come dire, fugare nel caso in cui dovesse essere dubbio, nell'ipotesi in cui dovesse essere stata completata la domanda di protezione internazionale, recante esito negativo. Quindi per un minore essere non accompagnato richiedente protezione internazionale, il minore stesso una volta completata la domanda non rimane senza permesso di soggiorno, ma otterrà il permesso di soggiorno per minorità, pertanto completando per quello che è il percorso, così come è stato declinato. ulteriori, mi permetto prima di cedere la parola alla collega, alla dottoressa Trino del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, vi è quello di fare riferimento ad una sentenza del Consiglio di Stato del 2013, perché tra i quesiti che sono stati evidenziati uno riportava la richiesta di capire se il minore essere non accompagnato affidato alle cure di un parente entro il quarto grado fosse o dovesse essere considerato minore straniero o non accompagnato. La risposta la troviamo all'interno della sentenza del Consiglio di Stato, nel quale viene proprio evidenziato quanto detto sinora, ovvero il fatto che comunque non si tratti di minori affidati o sottoposti a tutela e che pertanto seguono le regole dei minori affidati e non dei minori stranieri non accompagnati. Adesso a questo punto passo la parola alla collega Simona Trino allo scopo di chiarire alcuni punti legati al suo approfondimento nello scorso webinar. Buongiorno a tutti, come anticipato durante la mia presentazione cercherò di rispondere ai quesiti che sono stati posti nelle sessioni precedenti del webinar con riferimento alle competenze del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e lo farò trattando nuovamente e in maniera più sintetica proprio le competenze della Direzione Generale Immigrazione e Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Un breve riepilogo su quelle che sono le competenze della Direzione Generale Immigrazione in materia di minori stranieri non accompagnati. Anzitutto una competenza in materia di censimento e monitoraggio della presenza di minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale. Una competenza in merito alla promozione e all'avvio delle indagini familiari con riferimento ai minori stranieri non accompagnati. La competenza inerente al rilascio dell'adozione del parere ex articolo 32 del Testo Unito Immigrazione in vista della conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiorità. E infine una competenza con riferimento alle politiche di integrazione e più in particolare di inclusione sociale e lavorativa dei minori stranieri non accompagnati e dei giovani migranti ex minori stranieri non accompagnati. Con riferimento alla prima delle competenze indicate, quella relativa al censimento e al monitoraggio della presenza di minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale, come probabilmente tutti voi già ben saprete, la competenza è espletata attraverso il SIEM, che è il Sistema Informativo Nazionale dei Minori Stranieri Non Accompagnati, che è stato istituito presso il Ministro del Lavoro dalla legge 47 del 2017. Anzitutto per rispondere a dei quesiti che sono stati posti con riferimento al SIEM, mi preme evidenziare che all'interno del SIEM sono registrati tutti i minori stranieri non accompagnati che permangono sul territorio nazionale e che entrano nel sistema di accoglienza nazionale, a prescindere dalla tipologia di struttura di accoglienza dove siano collocati, quindi anche laddove siano accolti presso il SIEM. Anche in tal caso il Comune dovrà procedere con l'inserimento dei dati relativi al minore straniero non accompagnato accolto nel SIEM all'interno del SIEM. Il SIEM pertanto traccia la presenza del minore straniero non accompagnato e tutto il percorso che il minore svolge in Italia fino al compimento della maggiore età. Si tratta ovviamente, come già esplicitato in precedenza, di uno strumento utile che restituisce in tempo reale il dato aggiornato sulla presenza di minori stranieri non accompagnati in Italia ed è stato costruito sulla base intorno alla figura, al ruolo degli enti locali, in quanto responsabili della presa in carico dei minori stranieri non accompagnati. Con ciò intendo anche riagganciarmi a un altro dei quesiti che è stato posto durante lo scorso webinar che è proprio relativo ai soggetti che accedono al sistema informativo dei minori stranieri non accompagnati. Il sistema è quindi implementato in via principale dagli enti locali, poiché in quanto responsabili della presa in carico dei minori stranieri non accompagnati esercitano le principali competenze con riferimento a questi. Tuttavia, ai dati inseriti all'interno del SIEM hanno ovviamente accesso gli altri soggetti pubblici che sono competenti in materia e in particolare vorrei evidenziare che l'aspetto relativo all'accesso al SIEM sia in modalità inserimento dei dati sia in modalità visualizzazione del SIEM sarà oggetto di disciplina nell'ambito del regolamento che modificherà il DPCM 535 del 1999 in otto azione di quanto previsto dall'articolo 22 della legge 47 del 2017. Quindi gli aspetti relativi ai soggetti che accedono al SIEM e alle attività che gli stessi possono svolgere all'interno del SIEM saranno disciplinati dal nuovo regolamento che modificherà il DPCM 535 del 1999. Un particolare requisito è stato posto con riferimento alla possibilità per i tutori di accedere al SIEM. Attualmente, come già detto, il Sistema Informativo Nazionale dei minori stranieri non accompagnati e è stato concepito come un sistema al quale accedono esclusivamente i soggetti pubblici proprio perché in considerazione del carattere pubblico dei soggetti è in tal modo garantita l'attendibilità dei dati inseriti e pertanto attualmente non è previsto che i tutori possano accedere al SIEM. Anche in considerazione delle norme vigenti in materia che esplicitano, indicano i soggetti che hanno per l'appunto la possibilità di accedere alle informazioni inserite all'interno del SIEM. Questo è semplicemente un breve aggiornamento rispetto al webinar precedente con riferimento al numero dei minori stranieri non accompagnati che sono accolti in Italia al 31 ottobre 2019. Sono 6.566, prevalentemente ovviamente di genere maschile, prevalentemente tra i 16 e i 17 anni. Questo invece è un focus relativo alle principali nazionalità dei minori stranieri non accompagnati, aggiornato anch'esso al 31 ottobre 2019. Anche qui si conferma il trend relativo alle nazionalità, in particolare la nazionalità albanese come nazionalità principale dei minori che non accompagnati presenti in Italia. Altra competenza come anticipato è quella relativa alle indagini familiari. Per chiarezza ricordo semplicemente che le indagini familiari sono delle analisi del contesto familiare e locale di provenienza del minore straniero non accompagnate che vengono svolte nel paese di origine del minore al fine di acquisire maggiori elementi di conoscenza in merito al background del minore e della sua famiglia, al fine quindi di valutare meglio la storia personale, le inclinazioni del minore e quindi di individuare la soluzione di lungo periodo più adatta al minore straniero non accompagnato. Quindi non soltanto nell'ottica di un eventuale ritorno volontario nel paese di origine ma anche al fine della costruzione di un percorso di accoglienza più ponderato in Italia. Con riferimento alle indagini familiari vorrei inoltre chiarire che ovviamente vi è una valutazione a monte tanto al momento della richiesta delle indagini familiari che è avanzata dai servizi sociali del comune che ha in carico il minore ovvero degli altri soggetti che sono eventualmente responsabili per il minore come ad esempio il tribunale, ovvero anche da parte dell'autorità giudiziaria in merito proprio all'utilità e all'opportunità dell'indagine di svolgere, dello svolgimento dell'indagine familiare con riferimento a quella minore straniero non accompagnato e alla sua specifica situazione in Italia e vi è anche una valutazione da parte della direzione generale che riceve la richiesta circa per l'appunto l'opportunità di avviare l'indagine familiare. Con riferimento invece alla competenza relativa al rilascio del parere ex articolo 32 del testo unico immigrazione come già anticipato dalla collega prima di me al compimento della maggior età i minori stranieri non accompagnati possono ottenere un nuovo permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro o di lavoro autonomo o subordinato. Con particolare riferimento al permesso di soggiorno per accesso al lavoro in merito al quale è stato posto un quesito specifico che in tali casi è rilasciato al minore straniero non accompagnato con riferimento per l'appunto alla motivazione dell'accesso al lavoro il cosiddetto permesso di soggiorno per attesa occupazione che ha una durata non inferiore ad un anno ovvero ha la durata che coincide con quella della prestazione del sostegno a reddito laddove superiore ed è un permesso di soggiorno rinnovabile al fine del rinnovo tuttavia devono sussistere i requisiti di reddito che sono previsti dall'articolo 29,3 del testo unico immigrazione in materia di ricongiuggimento familiare la disciplina del permesso di soggiorno per attesa occupazione è contenuta nell'articolo 22, in particolare al comma 11 del testo unico immigrazione con riferimento ai casi in cui la richiesta di parere non è necessaria e quindi le ipotesi di esclusione che sono peraltro previste e delineate dalle linee guida che la direzione generale ha adottato nel febbraio del 2017 proprio con riferimento alla procedura di rilascio di questo parere il primo caso di esclusione è quello della cumulativa presenza di due requisiti la permanenza del minore straniero non accompagnato in Italia per un periodo di almeno tre anni e l'inserimento in un percorso di integrazione di durata almeno biennale affinché in questo caso la richiesta di parere non debba essere presentata alla direzione generale è necessario che questi due requisiti coesistano l'altra ipotesi è quella dell'affidamento del minore straniero non accompagnato a un parente entro il quarto grado che è stata esaurientemente trattata dalla collega prima di me quindi il minore straniero non accompagnato come stabilito, come chiarito dal Consiglio di Stato laddove sia il minore che sia affidato a un parente entro il quarto grado non è da considerarsi un minore straniero non accompagnato pertanto non è necessario in tal caso ai fini del rilascio del nuovo permesso di soggiorno al compimento della maggiorità la richiesta del parere alla direzione generale le altre ipotesi sono quelle nelle quali il minore straniero non accompagnato è già titolare al momento del compimento della maggiorità di un altro titolo di soggiorno che per l'appunto lo legittimi a rimanere in Italia in maniera regolare di recente sono emerse delle criticità tra l'altro che si ricollegano anche a dei quesiti posti nei precedenti webinar con riferimento all'ipotesi di un minore straniero non accompagnato che abbia presentato richiesta di protezione internazionale e che abbia ottenuto un diniego anche eventualmente a seguito del compimento della maggiorità ci si è chiesto quindi in questo caso se il minore straniero non accompagnato possa comunque avanzare la richiesta di parere ai fini dell'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi di studio, lavoro autonomo, lavoro subordinato o accesso al lavoro come previsto dall'articolo 32 del testo unico bene, nell'emore dell'adozione, dell'aggiornamento della normativa di attuazione in particolare del DPR 394 del 1999 la direzione generale a tutela del superiore interesse del minore valuta le richieste di parere che giungono anche a seguito della maggiorità laddove il minore straniero non accompagnato abbia ottenuto un diniego della richiesta di protezione internazionale quindi la richiesta può essere inviata e vi è la valutazione delle stesse da parte della direzione generale sempre con riferimento al parere ex articolo 32 altro quesito che è stato posto è quello relativo alla necessità dell'avanzamento della richiesta da parte dei servizi sociali e più specificamente sui motivi per i quali è preferibile che siano i servizi sociali del comune ad avanzare la richiesta di parere anzitutto come delineato dalle linee guida del 2017 la richiesta di parere è preferibile che venga presentata dai servizi sociali del comune che è in carico il minore ovvero dal tutore o da altro soggetto che è responsabile per il minore o ancora dall'ex minore straniero non accompagnato che sia nel frattempo divenuto ormai maggiorenne perché è preferibile come indicano le linee guida che la richiesta sia avanzata dai servizi sociali del comune anzitutto perché il comune essendo per l'appunto titolare della presa in carico del minore ha generalmente a disposizione maggiori elementi informativi relativi al percorso di accoglienza di integrazione sociale e civile svolto dal minore nel corso della permanenza in Italia e in secondo luogo perché con la recente novità inerente per l'appunto alla possibilità per i comuni di avanzare la richiesta di parere attraverso il SIEM ciò ovviamente si ripercuote anche in termini di celerità e di efficacia della procedura per l'appunto attraverso quando il comune invia la richiesta di parere attraverso il SIEM il contatto con la direzione generale è più immediato la procedura è più snella e più rapida poiché tutta la documentazione inerente al percorso può essere caricata sul SIEM e la direzione accede in maniera più rapida anche la comunicazione tra la direzione generale e il comune ai fini di un'eventuale integrazione della richiesta è più rapida un ultimo aspetto sul quale voglio soffermarmi è quello relativo ai ritorni volontari dei minori stani non accompagnati in merito ai quali è stato posto un quesito a seguito dell'adozione della legge 47 del 2017 la competenza inerente ai ritorni volontari assistiti dei minori stani non accompagnati è stata trasferita dalla direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del ministro del lavoro alla tribunale per i minorenni quindi all'autorità giudiziaria in considerazione del vuoto normativo che si è creato nell'emore anche dell'adozione della normativa di attuazione con riferimento all'esecuzione del rimpatrio eventualmente disposto dall'autorità giudiziaria la direzione generale è stata in alcuni casi a seguito della legge Zampa incaricata dell'esecuzione del ritorno disposto dall'autorità giudiziaria dal tribunale per i minorenni pertanto per l'appunto la competenza non è più in capo alla direzione generale ma in considerazione dell'esperienza maturata dalla direzione e della mancanza di una norma attualmente con riferimento all'esecuzione dell'esecuzione degli stessi in alcuni casi è stata incaricata la direzione generale personalmente ho concluso e vi ringrazio e passo nuovamente la parola alla dottoressa Iuzzolini grazie adesso quindi ricordiamo che questi quadri sono gli approfondimenti che ci avete richiesto attraverso i quesiti che sono stati presentati a margine delle formazioni delle scorse puntate quindi fondamentalmente dovranno essere letti insieme allo svolgimento delle precedenti formazioni al fine chiaramente di avere il quadro più completo possibile poi rimaniamo sempre a disposizione piena nel caso in cui ci dovessero essere degli ulteriori chiarimenti la seconda, l'altra parte legata all'ultimo schema legato alla nostra, alla trattazione di oggi riguarda proprio la parte legata all'affidamento e alla tutela quindi che cosa dispone la legge dello Stato? parlando di affidamento la legge dello Stato dispone a legge 184 dell'83 che è quando la famiglia biologica non sia in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del figlio minore questi può essere affidato ad altri parenti, a soggetti esterni alla famiglia o a comunità familiari in questo caso di che cosa si tratta? si tratta di misure di sostegno, noi già precedentemente le abbiamo legate fortemente a quello che è l'articolo 2 della nostra carta costituzionale perché di fatto ne è una diretta espressione si tratta di misure di sostegno per genitori in difficoltà che non riescono a dare cura o a temporaneamente assistenza morale e materiale ai propri figli perché evidentemente viene declinato il temporaneamente perché nel caso in cui dovesse essere un protrarsi si entrerebbe in una definizione di Stato di abbandono che in realtà è uno degli elementi prodromici poi successivamente per lo Stato di adottabilità in presenza di parenti entro il quarto grado che prestino assistenza morale e materiale la legge non esige la dichiarazione a Stato di adottabilità quindi in sostanza viene declinata la possibilità che i parenti entro il quarto grado possano essere affidatari chiaramente dei minori in genere l'affidamento entro il quarto grado così come è stato declinato anche nelle precedenti slide può attuarsi tutte le volte nelle quali vi sia una grave difficoltà nella cura o nell'educazione dei minori da parte della famiglia di origine oppure per improvvise situazioni emergenziali abbiamo già detto prima e questo giusto per chiudere il quadro perché è stato oggetto di più di un quesito che in questo caso non si tratta di minori stranieri non accompagnati e in questo caso a completamento del suo percorso di minoretà non sarà necessario richiedere il parere così come disposto all'articolo 32 per la conversione del suo permesso di soggiorno chiaramente del minore per i minori stranieri non accompagnati si applicano tutte le norme riguardanti al collocamento in un luogo sicuro del minore che si trova in uno Stato di abbandono quindi ed in questo caso la competenza evidentemente è attribuita come per i minori italiani all'ente locale ai sensi della legge 328 del 2000 e delle leggi regionali che direttamente recepiscono la stessa l'affidamento del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo ad una famiglia o una comunità ai sensi di quanto dispone la legge 184 dell'83 così come modificata la legge 149 del 2001 e seguenti l'apertura della tutela per il minore i cui genitori non possano esercitare la potestà quindi sostanzialmente tutte le norme all'interno le norme dello Stato quindi i riferimenti normativi così come li abbiamo declinati sono la legge 184, l'83 successiva modificata la legge 149, la legge 163 del 2015 fino ad arrivare alla legge 47 del 2017 che ribadisce un presupposto fondamentale ovvero che comunque viene sempre prediletto l'affidamento familiare dei minori in via prioritaria rispetto al ricovero in strutture di accoglienza quindi sostanzialmente è quello il principio cardine che noi in realtà già troviamo precedentemente sin dalla legge dell'83 ma che viene poi ribadita con forza anche all'interno della legge del 2017 sempre nell'ambito di voler tracciare i confini di questo nostro quarto quadro sicuramente vi è quello di far leggere come di fatto si apre la tutela l'articolo 19,5 del decreto legislativo 142 del 2015 dispone che sia l'autorità di pubblica sicurezza che dia immediata comunicazione della presenza del minore straniero non accompagnato al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni a quale scopo? allo scopo di aprire la tutela e la nomina del tutore ai sensi del codice civile dell'articolo 343 del codice civile e delle disposizioni di dotazione dello stesso le funzioni del tutore sono quelle previste dal codice ovvero la cura della persona del minore la rappresentanza in tutti gli atti civili e l'amministrazione oveve ne siano di beni è evidente che questa norma riprende il periodo nel quale è stata scritta quindi anche tutte le azioni legali, operazioni patrimoniali o altro per la tutela e l'amministrazione dei beni ricalcano il periodo storico ma è chiaro che quando parliamo di amministrazione la rappresentanza degli atti civili rientra pienamente nella materia nella quale stiamo ragionando uno dei passaggi fondamentali è sicuramente quello della istituzione dei tutori volontari ai sensi della legge 47 del 2017 di cui all'articolo 11 allora, di chi stiamo parlando? sono tutori infatti viene disposto che presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori la legge successivamente declinata fino a massimo di 3 per tutore quando la tutela riguarda fratelli o sorelle quindi in sostanza i tutori volontari vengono inseriti all'interno di elenchi istituiti presso ogni tribunale per i minorenni si tratta di privati cittadini adeguatamente formati da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza dove non sia stato nominato il garante regionale queste funzioni vengono temporaneamente esercitate da una struttura centrale che ha il nome di AGIA ovvero autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza monitora lo stato di attuazione delle disposizioni legate all'articolo 11 della legge 47 un altro elemento importantissimo che in realtà serve allo scopo di raggruppare quindi di restituire il principio della economia amministrativa fondamentalmente quello di raggruppare la nomina e la gestione della tutela sotto un'unica autorità giudiziaria minorile infatti per questo motivo il decreto legislativo 220 del 2017 dispone che la nomina del tutore e tutti gli altri provvedimenti relativi alla tutela sono adottati in capo al presidente del tribunale per i minorenni o a un giudice da lui delegato quindi sostanzialmente vi è una sorta di reconduzio ad unum quindi ad un'unica autorità giudiziaria che si occupi esclusivamente della nomina del tutore e di tutti gli altri provvedimenti relativi alla tutela dei minori stranieri non accompagnati abbiamo già declinato precedentemente che la cosa sia cosa significhi l'acronimo agia ovvero l'autorità garante l'infanzia e l'adolescenza quindi sostanzialmente è l'organo che monitora lo stato di attuazione dei provvedimenti di cui è la legge 47 del 2017 in merito ai tutori volontari attenzione la legge 47 del 2017 rinvia a tutte quelle che sono le disposizioni del codice civile per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni di cura di rappresentanza della persona del minore dell'amministrazione dei beni e soprattutto ove questi siano presenti evidentemente obbliga ad esercitarle nel rispetto dell'obbligo di dirigenza così come previsto all'articolo 382 del codice civile in conformità al superiore interesse del minore il quale a sua volta richiede azioni informate ai principi di imparzialità di indipendenza di qualità di trasparenza e di appropriatezza quindi sostanzialmente vi è una piena connessione un'interrelazione tra la legge 47 del 2017 che declina una sorta di competenza esclusiva è una la competenza esclusiva in capo al tribunale per i minorenni per la nomina e la gestione di tutori volontari alle norme che riguardano la tutela di cui al codice civile i diritti e i doveri del tutore volontario conferma la volontà di protezione internazionale deve essere presente obbligatoriamente all'interno dell'audizione per quello che riguarda la domanda di protezione internazionale chiaramente esplica tutti quelli che sono i principi previsti dal codice civile l'ufficio tutelare è un ufficio gratuito infatti secondo quanto disposto dall'articolo 379 del codice civile è la tutela così come previsto dalla norma del codice civile cessa evidentemente al raggiungimento della maggiorità lo riprenderemo nella prossima ultima puntata e sostanzialmente se anche per quanto riguarda nel caso dell'ipotesi del proseguo amministrativo il tutore cessi il suo ufficio con il raggiungimento della maggiorità evidentemente sì perché si tratta di persone che diventano maggiorenni quindi nel provvedimento del tribunale amministrativo che decreta la prosecuzione del proseguo amministrativo vi è evidentemente descritto che si chiude che cessa la tutela al raggiungimento evidentemente della maggiore età molti quesiti ci sono stati condivisti relativamente proprio ad alcune attività che possa svolgere il tutore in favore del minore nello specifico è stato tra i quesiti è stato detto ma deve essere presente il tutore nel caso in cui si dovesse ragionare di apertura di un conto corrente o di una posta pay e deve essere avvertito il tribunale per i minorenni o deve essere con lui condivista la determinazione è evidente che comunque in questo caso non si tratterà di una autorizzazione da parte del tribunale per i minorenni ma il tutore metterà in copia conoscenza il tribunale per i minorenni in merito all'apertura per esempio dell'attivazione di un conto corrente di una posta pay per esempio per convogliare quello che è il pocket money piuttosto che l'esito di un tirocinio formativo e così via altri quesiti che ci sono stati fatti è nel caso in cui il tutore volontario non dovesse essere nominato quindi perché il minore è in prossimità della maggiore età a chi sostanzialmente si prende cura di quelli che sono chi rappresenta i bisogni del minore quasi neomaggiorenne è evidente che in questo caso ci viene incontro la norma declinata la legge 184 e l'83 ovvero con il quale esercita i poteri tutoriali nelle more della nomina del tutore definitivo altro quesito che probabilmente è venuto che si è sviluppato ragionando in termini di attività dei tutori volontari è sostanzialmente quello legato al discorso di chi svolga un'attività sull'operato del tutore volontario e con quali modalità tale attività sia svolta anche in questo caso è evidente che l'organo competente è il tribunale per i minorenni che si occupa della gestione della funzione afferente all'attività del tutore e sarà lo stesso che declinerà ne declinerà anche le modalità di gestione queste risposte sono state condivise anche con il collega dell'Agia con il quale abbiamo condiviso anche la formazione quindi il quadro legato all'affidamento all'affidamento o all'affidamento e alla tutela per quello che riguarda quindi questo è il quadro relativamente alla tutela per quanto definito dall'affidamento riportiamo alla memoria che sostanzialmente si applicano esattamente le stesse norme previste dalla legge 183 dell'84 è la legge 149 del 2001 che ribadiscono il diritto del minore a crescere, a vivere, ad essere educato nell'ambito di una famiglia senza distinzione di sesso, di etnia di lingua, di età, di religione nel rispetto dell'identità culturale del minore comunque non in contrasto con i principi dell'ordinamento e tra l'altro ribadiamo quello che è il principio fondamentale che riporta anche la legge 47 del 2017 che comunque viene preferito l'affidamento ad una famiglia preferibilmente con i figli minori a una persona singola al fine di poter garantire il mantenimento l'educazione, l'istruzione e soprattutto quelle che sono le relazioni affettive di cui hai bisogno da qui si trae una tra le principali differenze chiaramente tra affidamento e tutela cioè sostanzialmente mentre la tutela è la gestione amministrativa la presa in carico di quelli che sono una serie di attività legate proprio alla gestione eventualmente alla cura dei beni ove ne siano presenti oppure allo svolgimento di determinate attività amministrative come per esempio può essere il supporto per la richiesta del permesso di soggiorno eventualmente per varie attività nelle quali deve essere presente un adulto responsabile oppure la presenza nel corso della domanda di protezione internazionale l'affidamento invece definisce il diritto del minore a vivere in un luogo armonioso e stabile così come diceva una vecchia relazione introduttiva per la legge 183 dell'84 quindi sostanzialmente è ciò che deve garantire la relazione affettiva di cui ha bisogno che poi diventa elemento preponderante per i minori stranieri non accompagnati importantissimo nell'ambito per una buona riuscita di un percorso di integrazione all'esterno perché è chiaro che come se già avessi avviato un percorso fosse già supportato da un nucleo familiare o di supporto per un'uscita poi sul territorio l'affidamento familiare ha una dimensione molto plastica all'interno del nostro ordinamento vi sono moltissime forme che sono state previste dalla legge che vengono poi sperimentate all'interno degli enti locali quindi sostanzialmente sia per quanto riguarda gli affidatari infatti spesso si ragiona in termini di famiglie di singoli oppure di italiani, di stranieri tutto quello che possa essere di maggior supporto che possa garantire la maggiore completezza possibile in una presa in carico del minore sia la tipologia di affidamento infatti l'affidamento può essere un affidamento residenziale può essere un affidamento part time un affidamento verticale soltanto declinando in alcuni giorni della settimana o soltanto per determinate ore sostanzialmente proprio quello che è un supporto affettivo oltre che chiaramente da parte di persone che prendono in carico il minore straniero non accompagnato non necessariamente amministrativamente perché a quello penserà il tutore ma una presa in carico proprio armoniosa e stabile la normativa di riferimento così come abbiamo declinato già precedentemente anche viene riportata dalla legge 47 del 2017 che addirittura considera come preeminente l'affidamento superando qualunque altra forma di presa in carico infatti dispone che gli enti locali possano promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare di minori stranieri non accompagnati in via prioritaria rispetto al ricovero in strutture di accoglienza evidentemente in piena linea con i principi declinati all'interno della legge 183 dell'84 e successive modificazioni questo ad ulteriore comprova che non esistono che la legge di fatto i principi normativi sono unici vengono di fatto sviluppati a seconda chiaramente delle tipologie di riferimento delle quali stiamo ragionando quindi per quello che riguarda questi quadri di approfondimento ripeto sono stati raccolti i quesiti attinenti ai webinar precedenti e li abbiamo deciso di inserirli in una trattazione organica chiuderemo nella prossima sessione facendo riferimento ai quadri mancanti vi ringrazio per l'attenzione passo la parola alla dottoressa Virginia Costa Bene, grazie grazie moltissimo alle colleghe che come al solito diciamo con grande generosità hanno, si sono spese insomma per approfondire ulteriormente i temi che erano stati posti all'attenzione è chiaro ed evidente a tutti che più si parla di questi argomenti e più viene fuori la necessità e l'interesse di andare oltre perché è evidente diciamo la complessità che questa materia porta con sé per l'insieme di norme che compongono appunto il quadro di riferimento era quindi diciamo indispensabile come è stato detto dedicare una sessione proprio a questi temi abbiamo quindi deciso di dedicarci all'approfondimento invece dei temi relativi all'ultimo web agli ultimi due webinar in particolare ai temi estremamente legati all'accoglienza alle attività connesse all'accoglienza in particolare con particolare riferimento alle questioni legate all'accoglienza dei minori particolarmente fragili così come a tutte le attività connesse all'avvio all'autonomia all'integrazione nel prossimo webinar che quindi sarà il sesto che vi annuncio è programmato per il prossimo 16 gennaio siamo diciamo alla vigilia diciamo in un periodo di festività per cui abbiamo ritenuto che fosse più utile per tutti diciamo assicurarci quindi la disponibilità anche delle diciamo dei nostri di chi segue dei nostri webinar a far passare insomma il periodo il periodo di festività quindi in quell'occasione predisporremo un approfondimento come quello attuale su quei temi specifici è chiaro che sono nate anche dall'attuale dall'attuale trattazione ulteriori quesiti che vedremo insomma se sarà possibile soddisfare anche in quella sessione o se invece magari si andrà avanti con ulteriori sessioni di approfondimento per il momento io vi ringrazio vi confermo come anticipato il collega che le slide di questa come delle sessioni precedenti sono disponibili sui siti e vi do appuntamento al 16 gennaio grazie a tutti arrivederci